Un saluto dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano con il Pescara che lavora per preparare la prossima trasferta di Grosseto, doppia seduta di allenamento per i Biancazzurri al Poggio degli Olivi dunque che senza particolari intoppi proseguono la preparazione per la trasferta in terra toscana, riprenderà ad esercitarsi con il resto dei compagni anche Ciro Immobile, l'attaccante che sul finire del primo tempo della partita vinta con il Vicenza aveva accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, ieri è stato tenuto precauzionalmente a riposo ma oggi è di nuovo a disposizione di Zeman. Contro i Toscani mancherà il regista Marco Verratti per squalifica, per la sostituzione del regista la scelta potrebbe ricadere sull'italo-brasiliano Togni che ultimamente ha giocato proprio per surrogare la mancanza di Marco Verratti. Nel Pescara c'è soprattutto un giocatore che si sta mettendo in mostra a suoni gol e assi, se si tratta di Lorenzo Insigne, uno dei gioiellini dell'undici di Zdenek Zeman, Insigne che ha tirato su di sé le attenzioni del Napoli, squadra proprietaria del suo cartellino. A colpi di reti assist e giocate d'altissima scuola, Lorenzo Insigne sta facendo cambiare velocemente i piani che il Napoli, società proprietaria del cartellino dell'attaccante, aveva previsto per lui. Inizialmente il club partenopeo aveva stabilito che Insigne, dopo Pescara, dovesse rimanere un altro anno lontano da Napoli ed in tal senso il DS biancazzurro Daniele Delicarri lavora a fari spenti già da un po' con il collega campano Bigon affinché Insigne, in caso di promozione, possa rimanere per un'altra stagione in rival adriatico. Tuttavia l'affermazione a grandi livelli di Insigne ha indotto il presidente Aurelio De Laurentiis ad ipotizzare sin dalla prossima stagione il ritorno alla casa madre per indossare i panni del vice Lavezzi, semmai quest'ultimo dovesse restare ancora a Napoli, dato che l'interesse di Inter e Paris Saint Germain per l'argentino è sempre alto. L'idea di De Laurentiis potrebbe però rimanere per l'appunto solo un'idea. Sono due i problemi che al momento impediscono la praticità della cosa ed entrambi non di poco conto. In primi, Insigne, con il suo entourage, ha spesso fatto sapere, senza mai nasconderlo, che a Napoli per fare panchine e giocare solo spezzoni di partita non tornerebbe. Fra l'altro a Pescara si trova bene, stimolato da un ambiente che è tutto con lui ed un tecnico, Zeman, a cui deve tanto e che sa che può dargli ancora molto in termini di crescita calcistica. In seconda battuta, l'ipotesi di De Laurentiis non trova l'appoggio di Walter Mazzarri. Il tecnico del Napoli difficilmente ama puntare sui giovani e per Insigne non farebbe eccezione. Chiudendo il cerchio, la cosa probabile al momento è che le probabilità di permanenza di Insigne a Pescara per un altro anno in caso di A salgono decisamente. Sempre rimanendo in ambito del Pescara, prima di passare al Grosseto, prossimo avversario dei Biancazzurri, come hanno ricordato i colleghi Perantuono e Zitella nel corso della notizia, domani si svolgeranno alle 15 nella chiesa del villaggio Alcione i funerali di Domenico Rigante, tifosissimo del Pescara. Dunque domani i funerali del ragazzo. Con il pareggio colto sul campo della Juve Stabia e torniamo a parlare di calcio, il Grosseto ha certificato la permanenza nella categoria, un obiettivo minimo raggiunto dal club bianco-rosso che tuttavia era partito con ben altri obiettivi. Se non per via ufficiale, il Grosseto è ufficiosamente salvo, ormai al riparo dalle zone pericolose della classifica, ma anche troppo lontano da quelle che contano per poter fare un pensierino ad un finale di stagione da protagonista. La permanenza nella categoria ormai prossima alla conquista, con diverse giornate d'anticipo, di certo non mitiga la delusione per quello che poteva essere ed invece non è stato. Partito con ben altri obiettivi, vedi piazzamento in zona playoff, il Grosseto è una delle deluse di questo campionato di B. Con una rosa di tutto rispetto ai bianco-rossi è però mancata quella continuità di risultati necessari per ergersi a protagonista nella corsa alla promozione. Al resto ha pensato il vulcanico presidente Camilli, che con tre cambi di allenatore, da Ugolotti a Giannini, passando per Viviani, fino a tornare dallo stesso Ugolotti più che ad aggiustare, ha finito solo per creare confusione in seno al team toscano. Se fuori casa il Grosseto viaggia ad una media da promozione, i problemi veri arrivano paradossalmente quando si tratta di giocare sul campo amico. Davvero avaro di soddisfazioni quest'anno lo Zecchini, dove i Maremmani hanno centrato solamente cinque vittorie ed otto pareggi, uscendo sconfitti in ben sei circostanze. Un ruolino di marcia peggiore lo hanno fatto registrare, ad esempio Ascoli, Vicenza e Livorno. Insomma, quanto di buono fa in trasferta il Grosseto lo sciupa in casa, dove segna con regolarità, ma con altrettanta frequenza in cassa reti. 28 i gol subiti in casa, terza peggior difesa interna del campionato dopo Cittadella ed Empoli. Seppur tranquillo, al centro della classifica il Grosseto rimane comunque un cliente scomodo, che seppur senza obiettivi, le sue partite se le gioca fino alla fine. Chiedere ad esempio al Padova, rimontato dalla doppietta di Sforzini dopo essere andato avanti di due. Dunque in Toscana servirà il miglior Pescara, voglioso anche di cancellare la beffarda sconfitta dell'andata. La Lega di Serie B ha comunicato gli arbitri chiamati a dirigere la 39esima giornata del campionato cadetto. Grosseto Pescara è stata affidata ad Emiliano Gaglione di Alessandria per il fischietto piemontese. Sarà la 19esima gara in stagione in Serie B. Gaglione ha già diretto in due circostanze il Pescara, nella prima circostanza in casa contro l'Empoli dove i biancazzurri si sono imposti per 3-2 e successivamente ha diretto sempre all'Adriatico la sfida fra il Pescara ed il Gubbio. In entrambe le circostanze i biancazzurri sono riusciti a strappare la vittoria. Gaglione sarà assistito dai guardaline, vicinanza e manna. Quarto uomo a Battista. Passiamo al calcio a 5 perché dopo sette mesi di regular season, 26 giornate, 182 partite, inizia un nuovo campionato. Da domani al 16 giugno, nel caso in finale si arrivasse a gara 5, scattano infatti i playoff del campionato di Serie A di calcio a 5. 8 squadre per un tricolore, la marca Futsal per tenerselo stretto, le altre 7 per scucirlo dalla maglia dei trevigiani e metterlo sulla propria. Sette delle squadre che prenderanno parte ai playoff sono le stesse che nel mese di marzo si sono sfidate al Palafabris di Padova per la Final 8 di Coppa Italia a cui erano ammesse le migliori 8 classificate al termine del girone d'andata. Rispetto al giro di Boa, l'unico avvicendamento è quello tra il Bisceglie e il Pescara che con una bella rimonta ha concluso al quinto posto la stagione regolare. L'acqua e sapone finerma al secondo anno di Serie A è alla prima partecipazione assoluta alle finali Scudetto. Con la qualificazione degli Angolani a spese proprio del Bisceglie, l'Abruzzo fa registrare il record di partecipanti alla fase finale. Oltre ai nerazzurri di Bellarte ci sono anche il Pescara del confermato Mario Patriarca e il Montesilvano di Antonio Ricci che a inizio stagione ha preso il posto di Fulvio Colini. Playoff che scattano domani alle 20 con la sfida tra Acqua e sapone finerma e marca Fuzzall in programma al Palaroma di Montesilvano. La vincente del duello tra Abruzzesi e Trevigiani incrocerà il proprio destino con la vincente di Asti, Acquaevo e Lazio. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione della Notizia Sport. Io ricordo che tutti i servizi, tutta l'informazione è a disposizione. Basta accedere sul nostro sito www.latvnews.it e troverete tutta l'informazione della TV dell'Adriatico a portata di clic. Grazie per la cortesa attenzione e arrivederci.